qua invece sono col cuscinetto 6005 ok che se vado a vedere qua dovrebbe apparire se no facciamo ESC se vado qui appare che è SKF6005 perfetto allora questo qui la battuta questa qui se vado qui sotto in specifiche tecniche dimensioni dello spagolamento il minimo deve essere 28,2 dunque noi siamo 30 e dunque andiamo bene a questo punto quello invece diametro spallamento alloggiamento non ce l'ho a questo punto va bene e va bene sarà comunque 43,8 va beh ci vediamo alla prossima di vederci